Ecco, andare al bar, hai 5 minuti di pausa, vai con una collega al bar, ne trovi altre 3 o 4 e sei lì, pesce fuor d'acqua, perché tutti i tuoi colleghi parlo di cacca, di pappe, di malattie, di quant'altro, prendemene e vado direttamente, ecco, è una cosa che non sono un sentomia, ma a volte penso, oh, che fortunato che non ho dovuto subire o passare questi periodi, ecco.